CESFOR è un centro di formazione con sede a Roma fondato nel 2000. Noi sosteniamo lo sviluppo personale e professionale dei cittadini, la loro formazione e l'aggiornamento delle loro competenze, utili per l'inserimento nel mercato del lavoro. Nel corso degli anni abbiamo realizzato molti progetti europei, nel settore della cultura, dell'arte, del turismo, dell'organizzazione di eventi culturali, del patrimonio ambientale e della comunicazione, della green economy e del social care. CESFOR da più di 10 anni realizza progetti di mobilità europea, ha un network italiano ed europeo presente in 25 paesi dell'Unione. Centinaia di giovani e adulti hanno partecipato ai percorsi di mobilità, per migliorare l'apprendimento delle lingue europee e le loro competenze professionali. Il nostro staff è formato da professionisti ed esperti impegnati nella progettazione e gestione di progetti europei, nella formazione e nella didattica, nell'amministrazione e gestione della mobilità europea. CESFOR è dotato di aula informatica con postazioni Mac per lavori di editing, montaggio audio-video e lavori di grafica. Le attività didattiche sono integrate con le moderne tecnologie e supportate da Video System per consentire un maggior coinvolgimento degli allievi nella formazione.